Pietro Barilla sapeva che per realizzare un sogno sono necessari tre valori fondamentali. La curiosità per intraprendere strade mai percorsi. La passione vera, l'unica che ti dà la forza per affrontare i sentieri più difficili. E il coraggio con cui conquistare il traguardo, senza rendersi mai. Barilla celebra il centenario della nascita di Pietro. Se vuoi conquistare il tuo futuro, vai su barillaperigiovani.it per costruire il tuo domani, per migliorare il domani di tutti. Grazie a tutti.